Roma in diretta, bentornati in nostra compagnia. Cambiamo argomento, vogliamo tornare sulla protesta dei dipendenti pubblici del Comune di Roma. La ricorderete la protesta dei dipendenti del Comune di Roma perché lunedì scorso sono scesi in piazza creando anche delle difficoltà notevole al traffico cittadino. La questione in ballo era quella dei salari accessori. Quindi un previsto, annunciato taglio che ha messo in allarme i dipendenti sono scesi in piazza e hanno detto la loro. Oggi noi vogliamo commentare questo perché in realtà doveva esserci un incontro ieri o l'altro ieri, adesso chiederò meglio al nostro ospite, con il sindaco Marino. Un incontro che è saltato perché pare che la questione possa risolversi. Infatti è arrivata la voce di un decreto del Consiglio dei Ministri che potrebbe in qualche modo sospendere la questione che era arrivata dal MEF, i rilievi del MEF. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. È una vicenda semplice e complicata allo stesso tempo. Ne parliamo intanto con il nostro ospite che vi presento subito. Si tratta del segretario romano della CISL, Mario Bertone. Buongiorno, benvenuto nei nostri studi. Io vorrei, segretario, se lei è d'accordo, fare un passo indietro, cioè ritornare a quella piazza per raccontare poi tutti gli sviluppi. Anche perché oggi abbiamo letto di una sua intervista su un quotidiano romano, in cui lei dice che ci aspettiamo ancora molto da Marino, siamo delusi. Addirittura dice che il sindaco sta scappando. Che cosa è successo lunedì scorso? Anche perché così vediamo anche quali sono gli umori dei lavoratori, le loro ansie che poi i sindacati rappresentano. Allora, andiamo a lunedì scorso, Piazza del Campidoglio. Il servizio di Valentina Renzo Paoli. Uffici svuotati, municipi deserti, strade incustodite, bimbi a casa. Quasi la metà dei dipendenti pubblici, capitolini, dalle maestre ai vigili urbani, dagli amministrativi agli usceri e tecnici, ha scelto di farsi sentire sotto la statua del Marco Aurelio. Un esercito di lavoratori stipendiati dal comune ha invaso Piazza del Campidoglio per gridare un no deciso al taglio del salario accessorio previsto dall'amministrazione Marino dopo la lettera del Ministero delle Finanze che ha stabilito l'illegittimità delle modalità con cui vengono erogate le indenità e gli straordinari. Siamo del terzo municipio. Che ruolo svolgete? Che mansioni avete? Qui ci sono tutti, noi abbiamo presenti tutti gli amministrativi, i tecnici, i vigili e le scuole. Tutto il terzo municipio è qui. Quindi nel municipio oggi non c'è nessuno? Torniamo alle 11.30 e apriamo al pubblico, però stamattina siamo tutti qui. Perché? Perché dopo tanti anni di servizio di tutti, perché siamo tutti anziani, tra virgolette, questa amministrazione purtroppo ha deciso che il salario accessorio che noi abbiamo acquisito negli anni con i contratti indecentrati non aveva più valore perché su un parere non vincolante del MEF c'è qualche problema. Però il MEF è un parere non vincolante. Il MEF fa le ispezioni al Comune di Roma dal 1995 e l'amministrazione non acquista forza così perché disconosce anche le proprie azioni. E questa è la cosa più sbagliata del mondo, sulle persone che vanno tutti i giorni a lavorare. Quanto guadagnate? Allora, lo stipendio base medio è sui 1.300. Tu capisci che meno di 200 o 300 euro al mese arriviamo a 1.000 euro come le pensioni sociali a livello povertà. Quante siete oggi? Siamo tantissime. Quali scuole insegnate? Noi, scuola materna del Comune di Roma, siccome ci vogliono togliere questi 300 euro al mese che loro chiamano le spese accessorie, non abbiamo aumenti, non abbiamo nulla da tanti anni. C'è un precariato assurdo che non si riesce a smaltire. Secondo noi non è una cosa giusta, anche perché noi abbiamo un ruolo molto importante. Da quanti anni lei fa questo mestiere? Dal 1996 sono al Comune di Roma, sono passate del ruolo nel 2008. Era mai arrivata ad una situazione così? Io è la prima volta che faccio questa manifestazione, stiamo facendo le manifestazioni, se nel caso non si mettono d'accordo con il Comune, il 14 è sciopero generale. Siamo insegnanti di scuola dell'infanzia. Da quanti anni fa questo lavoro? 39 e siamo maltrattati da 39 anni. Non abbiamo avuto mai una cosa positiva da parte del Comune di Roma e di nessun sindaco. Questo ci ha veramente massacrato, forse il peggiore, quindi speriamo che venga tolto. Lei spera proprio nelle dimissioni a questo punto? Sì, sì, si deve dimettere perché questa è la realtà. Siete tanti oggi anche della polizia locale? Sì, siamo parecchi, non credo che saremo tutti, ma una buona parte, penso che la tensione sia stata molto alta. Domani alle 10 la tappa decisiva con l'incontro previsto insieme al sindaco Marino. I sindacati fanno sapere che chiederanno prima di iniziare la trattativa se ci sarà o meno il taglio del cosiddetto salario accessorio. Se dovesse venire confermato ci sarà la rottura immediata dei tavoli e la proclamazione di uno sciopero generale. Allora, questo succedeva martedì, poi ieri ci sarebbe dovuto essere questo incontro saltato perché comunque sono arrivate delle rassicurazioni da questo decreto segretario. Sì, diciamo che la garanzia ci sarà quando il decreto sarà definito, approvato dal governo e soprattutto quando avremo la notizia che negli stipendi, nella preparazione delle buste paga è previsto che ci sia il salario accessorio come è sempre. Per ora sulla busta paga di aprile, maggio è stato assicurato, quindi tutto tranquillo. Ma questa è una cosa... Il timore che possa esserci poi questo taglio? Allora, noi abbiamo una situazione... Il sindaco ha detto che ha previsto nel bilancio che si appresta ad approvare in giunta e per mandarlo poi ai municipi e all'assemblea capitolina, ha detto che i soldi per il salario accessorio li ha previsti. Il problema è che questa enfatizzazione di questa ispezione dell'analisi del MEF ci preoccupano un poco. Perché questa è un'analisi che è stata fatta dal Ministero ma che non ha, lo dicevano anche i lavoratori in piazza, non ha un potere vincolante, cioè è un parere. È un parere. che dice che per fare una sana amministrazione bisognerebbe intervenire su alcuni parametri. Non c'è solo il salario accessorio. E ne sono altri? Certo, avremmo bisogno di sapere quante consulenze ha tagliato il sindaco. Perché parla di salario accessorio e non parla di consulenze. Abbiamo bisogno di sapere quali sono i tagli agli sprechi che ha fatto. Ma lì la relazione del MEF è una relazione molto voluminosa e parla dell'intera macchina organizzativa. Voi dite guarda un po' proprio con i dipendenti se la va a prendere. Se comincia subito con il salario accessorio. Questo attacco da parte del sindaco, dell'attacco al reddito dei dipendenti non ce lo saremmo aspettati. Ecco, lei dice che non ce lo saremmo aspettati da un sindaco di sinistra, da un sindaco del Partito Democratico. Questo taglio, questo attacco lei l'ha definito proprio per reddito. Anche poi ha parlato della questione delle tasse, la Tasi, l'IRPEF che aumenta. Che fa? Un sindaco in controtendenza? Insomma vi ha spiazzato? In qualche modo siete delusi? No. Assolutamente delusi no. Noi facciamo il nostro mestiere. Il nostro mestiere è fare la contrattazione, rappresentare e fare gli accordi. Se non ci si dà la possibilità di fare la contrattazione, noi siamo in grado di fare le cose che sono state fatte noi di. È la prima volta, questo va detto, che si organizza una manifestazione di così tanti dipendenti del Comune di Roma, tutti contro l'amministrazione, contro il sindaco in particolare. C'è comunque qualcosa che non va nella comunicazione evidentemente? Teniamo conto che quella dell'altro giorno era una sostanziale assemblea dei dipendenti del Comune di Roma. Noi avevamo già fatto altre cose, all'Eliseo qualche giorno prima avevamo fatto una riunione di tutti i delegati, non solo del Comune ma anche delle aziende collegate al Comune di Roma. E' chiaro che si sta creando una condizione per cui si sta alimentando, naturalmente i pareri della gente li abbiamo ascoltati. E noi sappiamo che in questo senso il sindacato è fortemente rappresentativo. Qui si rischia veramente un cric, una rottura del rapporto con Roma Capitale. E questo non è solo un problema del sindacato dei lavoratori, deve essere anche un problema di chi governa questa città. Capire che i problemi vanno risolti, che non si deve fare demagogia. La prima reazione del sindaco rispetto all'assemblea, bastava guardare le agenzie che uscivano, era una reazione come se fosse un sindaco di un'altra città, di un'altra realtà. Siete rimasti molto male di questa cosa, perché lui vi ha risposto tramite agenzia, liquidando sostanzialmente. Ha detto sostanzialmente che i sindacati non perdono tempo, per noi organizzare un'iniziativa di quel tipo là non significa perdere tempo, significa lavorare per garantire ai lavoratori il loro reddito. Anche perché stiamo parlando di non è un reddito da nababbi. Insomma abbiamo sentito una lavoratrice, credo fosse un'educatrice, che diceva se da 1.200 me ne levano 200 e io rimango a 1.000, insomma diventa davvero uno stipendio da fame. Quindi 200 euro su una busta paga di 1.200 pesano come un macigno, sono una percentuale importante. Allora, segretario Bertone, mi deve perdonare un attimo, stanno arrivando le telefonate, quindi vediamo anche se ci sono magari o dei dipendenti del Comune o comunque i nostri telespettatori cosa hanno da dire di questa vicenda che comunque interessa e come la nostra città. Buongiorno, mi chiamo Tommaso, io ho un fratello che è operatore sociale e perché lavora in una cooperativa sociale che lavoriamo per il Comune. Vuole dire a questi signori che loro hanno tutti i diritti per carità di manifestare, eccetera. Però, dato che siamo in questo periodo maledettamente di crisi, che qui non ce la facciamo manco a meno le persone che non hanno stipendio visto di arrivare non alla fine mese, ma manco alle prime due settimane, vorrei dire al sindacalista che deve capire pure che il sindaco, per quello che ha, le risorse che ha, deve soddisfare un po' tutti. C'è il mio fratello che da due mesi non prende stipendio dalla cooperativa, lavora per dei disabili. Che dobbiamo fare noi? E qui dobbiamo un po', voi se almeno avete il lavoro sicuro, un lavoro sicuro che sicuramente nessuno vi può licenziare. Ma noi che viviamo così alla giornata, direi che un po' tutti dobbiamo stringere la sindaco, per carità ognuno ha i propri diritti. Però, se il sindaco non ci sono le risorse, dobbiamo prendercela con il governo, con l'Europa, ora che andiamo a votare, siamo attenti a chi votiamo. Grazie Tommaso, grazie di questo suo intervento, che ovviamente ci riporta anche alla questione che la crisi riguarda tutti, e che c'è a monte un problema da parte del governo, che taglia i fondi, e che quindi, insomma, indubbiamente il sindaco si trova in una posizione non invidiabile a gestire questa situazione così difficile. Per esempio, questo è proprio il classico caso, nel quale i lavoratori si trovano quasi a difendere le proprie nicchie. Diventa una guerra tra poveri. Il signor Tommaso ha ragione quando dice le cose che ha detto. Qui c'è qualcuno che comunque lo stipendio ce l'ha e qualcun altro non ce l'ha. Per esempio, nel bilancio del Comune di Roma che Marina ha preparato, prevede tagli al sociale per circa 100 milioni di euro. Quindi comprese quelle cooperative di cui parlava Tommaso. Per cui, qui il problema è serio ed è onnicomprensivo, è un problema che riguarda tutti. Io voglio anche dire che il salario accessorio non è che i lavoratori lo hanno ottenuto puntando la pistola alla tempia di qualcuno. Noi dobbiamo sapere che nel sistema del pubblico impiego abbiamo i contratti nazionali bloccati da troppi anni. Abbiamo una contrattazione di secondo livello che non si fa. A che serve la contrattazione di secondo livello? Serve proprio a capire quali sono le esigenze di flessibilità che la macchina organizzativa ha e vuole cercare di far fronte a queste esigenze. Ad esempio, gli orari d'apertura, il lavoro nel pomeriggio, fare alcune prestazioni di tipo particolare nel campo della polizia municipale e così via. Bene, tutte queste cose qua. O hai un sistema contrattuale che garantisce di analizzare il problema e trovare la soluzione, oppure lo devi risolvere attraverso dei patti. Nel senso che va bene, noi facciamo questa cosa, però vediamo come fare per attribuire questa cosa che ti chiedo. E questo ha determinato il salario accessorio. Ecco perché c'è bisogno di un confronto serio, sereno su questo argomento. Perché ci saranno storture. Ma noi non possiamo dimenticare che queste sono le cose indotte da scelte che sono state fatte. Il blocco dei contratti e il blocco del turnover significa che i lavoratori debbano lavorare in condizioni diverse perché alcuni colleghi nel frattempo escono e non hanno possibilità di vedere e remunerare le loro attività. Quindi insomma è arrivato ma non è una cosa calata dall'altro, ma ha le sue ragioni e adesso smantellare così dall'oggi al domani significerebbe destabilizzare migliaia di lavoratori. Allora andiamo ancora alle telefonate dei nostri telespettatori. Pronto? Pronto, salve. Io sono una ragazza vincitrice del concorso pubblico del Comune di Roma. Ah, altro capitolo, come no? Sì, buongiorno. Altro pietoso capitolo del Comune. Io proprio pubblicamente volevo approfittare della presenza del sindacalista chiedendo, è vero sì, i dipendenti del Comune di Roma giustamente reglavano i propri diritti, ma noi ragazzi? Perché poi c'è il problema delle assunzioni dei lavoratori, delle municipalizzate. Ovviamente, però noi che abbiamo vinto il concorso per meritocrazia, e sottolineo meritocrazia... Certo, avete dovuto studiare, vi siete preparati e state lì appesi a cercare di... Che nessuno ne parla più, la cosa più brutta e più triste è che nessuno ne parla più. Cioè, è come se tutto stesse andando fuori le quinte. E certo, la vostra angoscia... Noi eravamo veramente tanti. Ma ne abbiamo parlato, infatti, anche qui, ricordo appunto l'ansia di tanti giovani che attendono. Io sono una mamma che ci ho passato la bellezza di due gravidanze. La prima gravidanza ho fatto la domanda, la seconda gravidanza, mio figlio è nato, dopo due mesi ho sostenuto l'orale. Eh, insomma, quindi con grandi sacrifici, sostenuto, vinto... Il concorso ha bisogno delle risposte, cioè ha bisogno anche in questo limbo così brutto. Mi ricorda... Noi dobbiamo sapere... Quanto tempo fa... La nostra votizione... Da quanto tempo lei sa di aver vinto il concorso? Eh, dicembre. Da dicembre? Sì. Dell'anno scorso? Ovviamente, certo. E sta lì ad aspettare. Passano i mesi e nessuno vi dice niente, insomma, l'ansia cresce, perché poi uno ci fa... No, certo, ovviamente, anche perché i dipendenti del comune, giustamente, se loro hanno difficoltà a percepire il proprio stipendio mensile, ovviamente non possono darci una risposta a noi, anche se noi vi tartassiamo tutti i giorni e chiamiamo l'ufficio delle risorse umane. È possibile. Il sindaco ci deve delle risposte. Allora, signora, io la ringrazio. Qualcuno ci dovrà indicare la strada. Vi prego, non dimenticatevi di noi, perché qui è un dimenticatorio. Ha fatto benissimo a chiamare, la ringrazio, di questa telefonata, segretario, ma io so che voi non è che ve li dimenticate, ma questo è un problema enorme. Questo è un'altra brutta figura di questa amministrazione, di questo sindaco. Ma si può dire che non vale più un discorso che è arrivato al termine, dove abbiamo delle persone che sono state già assunte, altre che stavano aspettando di essere assunte, altre che... In una condizione di questo tipo, ma come si fa a dire... Non è possibile, noi abbiamo naturalmente molto a cuore questa situazione, fra l'altro... Diceva la signora, non vi dimenticate di noi, perché poi la sensazione a volte è quella. Certo, perché le cose... Quando io dico, vedo che l'avete messo anche in sovrappressione, che Marino scappa, intendo dire proprio questo, che c'è un problema e non offre le soluzioni. Il sindaco di una città deve offrire soluzioni ai problemi, non enunciarli. Ah, questo concorso, tutte le cose, lo blocco. E il accessorio non lo pago. E il sociale lo taglio. Il sindaco di una città deve offrire soluzioni ai problemi. È lui che deve fare le proposte per soluzionare i problemi. È in quest'ottica che bisogna leggere questo rapporto che sembra un po' incrinarsi tra i dipendenti del comune e il sindaco e l'amministrazione. Cioè, questa mancanza di risposte, di chiarezza, questo imbarazzo, come dire, di fronte a questo tipo di problematiche. Cioè, dov'è che non si riesce a comunicare? Vi sareste aspettati, insomma, le sto chiedendo comunque un incontro con il sindaco, magari che vi potesse rassicurare. Anche, io credo, dopo che è arrivata questa... che dovrebbe essere comunque una buona notizia del decreto del Consiglio dei Ministri. Perché non va incontrato, non va detto... Vabbè, intanto state tranquilli che la situazione è in via di risoluzione. Ma questa è una questione che la domanda andrebbe fatta a lui. Eh sì, certo. Insomma, immagino però che ve lo stiate chiedendo. Noi riteniamo che si debbano aprire i confronti su tutte le materie. Poi, guardi, non è soltanto nei confronti dei dipendenti del comune che ci sono problemi. Qui ci sono problemi con l'intera cittadinanza. Perché noi abbiamo chiesto incontri ripetutamente, naturalmente lo facciamo come sindacati confederali per le nostre competenze, come sindacati di settore per le competenze che hanno e chiediamo incontri per affrontare i problemi che riguardano questa città. Noi abbiamo chiesto tante volte incontri per discutere del bilancio di Roma Capitale. Non siamo mai riusciti ad avere un incontro se non all'ultimo momento prima che lui andasse in giunta con un documento preparato sul bilancio rinunciandoci le cose che ha detto. Abbiamo chiesto di mettere insieme la discussione sul bilancio e piano di rientro perché noi abbiamo il problema che tra poco avremo il piano di rientro che riguarda soprattutto le aziende del comune di Roma oltre ancora la macchina organizzativa del comune. Bene, anche lì mettere insieme questo discorso significava evitare di avere una discussione fatta su pezzetti singoli su cui poi lavoratori, pensionati, dipendenti del comune, dipendenti socializzati pagano ogni volta un pezzettino. Non è possibile. Noi abbiamo bisogno di un confronto vero e questo confronto vero non c'è. Non siete riusciti ad averlo? Non c'è. Lei ha detto anche a proposito del bilancio che è improponibile. Sì. Perché? Perché guardiamo quali sono i problemi che riguardano questa città, questo territorio di Roma. Vogliamo elencarli? Tre. Tre priorità dico. Lavoro. Il lavoro si sta riducendo. Manca. È sempre più un lavoro precario. C'è sempre più uso di ammortizzatori sociali, cassa integrazione, mobilità. Le famiglie, in conseguenza di questi tagli all'occupazione, riducono il loro potere d'acquisto. E quindi evidentemente c'è un problema reale. Ci sono meno soldi, meno posti di lavoro e meno soldi. Si blocca l'economia. Si blocca l'economia. Abbiamo un fisco. L'addizionale dello 0,9, l'addizionale IPEF dello 0,9 è la più alta d'Italia. Non c'è nessun altro comune che in Italia paga lo 0,9 di addizionale. Benissimo. Questa questione, abbiamo detto, bisogna invertirla questa rotta. Bisogna dare un segnale. Fare in modo... La risposta qual è stata alla pressione fiscale che noi volevamo in un qualche modo ridimensionare. È arrivata la tasse al 2,5. E noi avevamo anche lì fatto un ragionamento sulla possibilità di portarla a 2,3. C'era un ragionamento rispetto alla progressività dell'addizionale IPEF. C'era un ragionamento... Ecco, perché poi questo è l'altro aspetto, anche la non progressività che comunque pesa sulle famiglie. Perché un conto è aumentare le tasse in base al reddito, un conto è aumentarle in maniera... In modo indiscriminato per tutti, allo stesso modo. Questo significa fare equità al contrario, nel senso che quello che prende di meno paga in sostanza di più di quello che prende di più. È esattamente rovesciato il principio costituzionale che ognuno deve contribuire per quanto ha a disposizione. L'altro elemento, l'altra terza priorità per me è il sociale. In una situazione che già in un qualche modo ho affrontato, il ragionamento della necessità di interventi sociali. In una città dove si riduce l'occupazione, si riduce il reddito dei consumi, il reddito dei lavoratori e dei pensionati. Molti non lavorano, c'è bisogno di assistenza. E in una situazione nella quale, soprattutto per la grande area di pubblico impiego che abbiamo nel sistema produttivo romano, c'è meno possibilità di risorse, c'è più bisogno di interventi per il sociale. Le famiglie ormai fanno da sole le questioni che riguardano l'abbatante, le questioni che riguardano l'assistenza al congiunto. Non ci contano più sui servizi sociali. Non ci contano più. D'altra parte, vediamo quello che succede. Nei fatti, la cooperativa che fa il servizio non viene pagata. L'intervento sociale in sostituzione dell'intervento del comune, sempre per quei ragionamenti che abbiamo fatto prima, perché il comune, non potendo assumere, non può fare, ha bisogno di quegli interventi, diciamo così, sussitiati, glieli chiedono, glieli affidano e non glieli pagano. E questo è una cosa che non va bene. 100 milioni in meno per l'assessorato ai servizi sociali. Bene, che cosa significa 100 milioni in meno? Significa meno sociale. Significa meno interventi. E allora, in una condizione in cui i pensionari aumentano, le condizioni degli incapienti aumentano, il discorso dei portatori di difficoltà aumentano, noi avremmo bisogno di più sociale. No, ce n'è di meno. E allora questa manovra va proprio cambiata. Non è possibile pensare che possa essere questa manovra una manovra per risolvere i problemi di Roma. Li aggrava. Visto questa valutazione così importante, pesante, che voi fate del bilancio, visto anche il vostro commento al fatto che è stato annullato questo incontro, dal quale credo qualcosa comunque vi aspettavate, cosa succederà adesso? Cosa intendete fare? Perché c'era nell'aria anche, diciamo così, la minaccia, se la vogliamo chiamare così, di nuove azioni di protesta. Qui il problema si allarga perché noi forse con questo intervento del governo, perché poi il salario accessorio non riguarda il comune di Roma, riguarda tutti i comuni d'Italia, perché tutti si sono trovati in quelle condizioni, per cui l'intervento del governo e l'apertura di un tavolo nazionale con le federazioni di settore in particolare sul salario accessorio, forse questo aiuterebbe ad abbassare l'attenzione e nel frattempo a non toccare bussa e paga. Quindi magari arrivasse presso questo decreto che il governo promette. Ma qui il problema più complessivo è su tutti gli altri aspetti che riguardano questa città. Io ne ho citati alcuni, ma per esempio quando arriveremo al piano di rientro che prevede che secondo un'impostazione di spending review bisognerà stare attenti ai costi delle aziende municipalizzate, ridurre il numero di queste aziende, determinare condizioni di minore spesa, lì, come è successo per la strada accessorio, noi ci aspettiamo che arrivi qualcuno e ci dice dobbiamo fare a meno di X persone. Ci sono tante cose che si possono fare prima di arrivare alle X persone meno. A questi tagli così. Anche perché il lavoro non è soltanto quello che ti dà la possibilità del reddito, il lavoro è ciò che ti consente attraverso il reddito di essere incluso nella società, di avere relazioni nella società e quindi di attivare percorsi economici. Ci diranno anche lì che bisognerà fare questo e noi diciamo ma perché non ci portate a conoscenza dei contratti di servizio, dei contratti che si fa tra comune e azienda rispetto alla distribuzione del servizio che l'azienda dispone? Perché non ci confrontiamo su un piano industriale? Perché non parliamo degli appalti? Perché non parliamo della centrale unica d'acquisti? Perché non parliamo di tutto ciò che potrebbe essere osservato, monitorato e su cui è possibile trovare forti risparmi. Insomma mi pare che resta questo appello a... La prospettiva non può che essere... No, da mettersi le mani nei capelli. Che ripetere iniziative come quelle che sono state fatte. Esco sconfortata da questa conversazione con il segretario Bertone. No, ma c'entra non per lei, ci mancherebbe. Ma perché effettivamente il momento è difficile e le complessità sono tante. Quindi ci auguriamo, e ripeto questo rimane un po' mi sembra l'appello anche che fa il segretario della CIS Loro Mellazio è quello che ci possa comunque essere un incontro, un tavolo di confronto che già rassicurerebbe, credo, molto i lavoratori, i loro rappresentanti. Poi naturalmente che ci siano delle difficoltà come ci ha giustamente ricordato il nostro telespettatore. Beh, questo non va dimenticato perché è chiaro che il sindaco fa anche quello che può in base alle risorse che ha a disposizione. Il momento è difficile per tutti quindi più che mai c'è bisogno di collaborare piuttosto di scontrarsi. Quindi nei momenti difficili c'è maggiore bisogno di soluzioni condivise. Assolutamente sì. E quindi speriamo che da questo messaggio arrivi forte e chiaro al sindaco. Intanto io saluto e ringrazio il segretario Mario Bertone della CISL di Roma e del Lazio per esserci uno da trovare. Grazie. Un saluto alla prossima, in bocca al lupo naturalmente. Ci fermiamo qui, adesso vi lascio ad Andrea Bozzi. È tempo infatti di ditelo a Roma 1, spazio dunque alle vostre segnalazioni. Per quello che riguarda invece Roma in diretta vi do appuntamento a domani. Se vorrete noi saremo qui alle 13. Arrivederci. Grazie.